Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova quotata della computer museo, ci troviamo qui all'erzo e l'anno più che altro per testare questa telecamera da Zubb 5000 sott'acqua. In questo caso abbiamo i nostri colleghi qui e se ne puoi arrivare a cercare da questo punto senza perdere tempo ovviamente andiamo a provare. L'acqua è vermelissima. Per me stiamo proseguendo, credo che venga bene il testo. Ho fatto un po' l'acqua. Va bene ragazzi, allora si conclude il test della computer museo ricordando la Zubb 5000. Spero che il test vi sia piaciuto, che altro che vi soddisfi. Grazie a tutti per aver risultato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della computer museo. Ciao!